In Iraq il governo non riesce a far fronte ad una situazione politica interna di grave difficoltà e di grande complessità fra partiti abbastanza in conflitto fra loro e contemporaneamente ad avere un'unità di comando e di distribuzione delle truppe tali da mettere solo il problema. Ci portano a considerare l'importanza dei finanziamenti e delle risorse per le agenzie delle Nazioni Unite per le organizzazioni non governative che ogni giorno per scelta continuano a provvedere ai servizi essenziali che sono l'acqua, il cibo, il rifugio a popolazioni che si muovono e a popolazioni con altissimi numeri di cui l'infanzia è la parte più importante. Certamente sul piano militare... Carla, tra poco magari faccio un piccolo break musicale. Sì, voglio fare una brevissima domanda, poi se volete anche voi naturalmente rivolgere domande ai nostri ospiti. Sul piano militare i bombardamenti cominciati a ottobre ma c'è un'altra opzione all'ordine del giorno, un intervento da parte dell'Europa, è all'ordine del giorno un'opzione di intervento militare sotto legida dell'ONU oppure no?